... Dai, 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 dai! Un, due, un, due, un, due! Ho il permesso di entrare. Sono il responsabile degli stagisti. Si accomodi. Grazie, signor Presidente. Io ho portato l'alta livrea per la cerimonia di stasera. D'ora in poi ci penserà Rocco. Ho il permesso di andare, signor Presidente. Vi piace l'ostalizio, ragazzi? Certamente, signor Presidente. Bravi. È la vostra unica occasione. Adesso vai. Signore senatore, il popolo protesta. Ecco il rapporto. Se deve formare il Presidente. Non è necessario. Non è una priorità. Stolte. Signor Presidente, deve proprio leggere questo report sul popolo. Roba di umani, eh? Su, fate un po' vedere.